Oggi insieme al mio curriculum ho deciso di allegare anche la lettera di presentazione. Non ho predisposto la lettera di presentazione, ma mi hanno suggerito essere una cosa molto importante e che sia necessario personalizzarla a seconda dell'azienda a cui ci si rivolge. La lettera di presentazione è importantissima perché è questa che dà la possibilità di far capire che le tue esperienze, il tuo carattere è adatto a quel lavoro. Il consiglio più utile che mi è stato dato è stato quello di adattare il mio curriculum per quanto possibile alle esigenze della determinata offerta di lavoro, quindi a seconda di quello che vogliono e di quello che cercano di venderti nel miglior modo possibile. L'errore più recorrente del curriculum è che di solito la gente non va abbastanza nel dettaglio del lavoro specifico. Di solito si manda forse un curriculum uguale a 100-200 aziende quando in realtà è molto importante evidenziare le capacità che corrispondono alle esigenze di quell'azienda. Il suggerimento più interessante che mi è stato dato è il fatto di essere sintetica nelle informazioni. Un CV deve avere al massimo due pagine, se si riesce a farlo in una pagina è ancora meglio, però al massimo due. Nel mio curriculum ho messo in evidenza le mie competenze trasversali, in particolare quelle organizzative e comunicative. È importante inserire quelle esperienze anche non per forza professionalizzanti rispetto a quello che è la carriera che la persona vuole intraprendere, se sono state esperienze significative per la crescita personale e professionale. Ho inserito una foto nel mio curriculum, ovviamente professionale. Inserire la foto nel CV non è obbligatorio, a meno che non sia richiesto esplicitamente. Qualora si decide di inserirla, la foto deve comunicare un'immagine positiva di sé, la persona deve essere ripresa in primo piano, sorridente ed evitare pose e abbigliamento poco adeguato. Nel caso in cui si decide di consegnare il CV in un evento fieristico, come ad esempio un career day, è importante inserire la foto poiché permette al selezionatore di associare il CV alla persona che ha incontrato direttamente. Nel caso in cui decidiate di inviare il CV per una posizione all'estero, è importante verificare prima le regole di stesura del CV poiché non sempre la foto è gradita. È inoltre importante verificare la pesantezza dell'immagine quando si invia il CV. Grazie a tutti.